buon pomeriggio a tutti bentornati su my in the chart in questi video pomeridiani che stiamo facendo stiamo un po coprendo la narrativa che abbiamo seguito da sabato a questa parte per quanto riguarda l'analisi delle vostre al coin che voi volete che andiamo analizzare quindi mi raccomando sempre sotto in descrizione fatemi sapere qual è il coin detenete qual è il coin volete analizzare che poi piano piano quando leggo i commenti quando abbiamo tempo andiamo a fare dei video specifici e andiamo a fare queste analisi chiaramente mi raccomando lasciate sempre un bel like se vi piacciono i contenuti e attivate sempre la campanellina inoltre date sempre un occhio a tutti i link in descrizione perché troverete i migliori trading bonus sul mercato ma se noi andiamo a vedere velocemente bitcoin vediamo che ci stiamo stringendo qua la rottura avverrà tra non moltissimo secondo me in zona albing ed è per questo che stiamo vedendo ancora una bitcoin dominance forte poca propensione al rischio tutti stanno aspettando l'albing di bitcoin dove secondo me potrebbe avvenire una rottura e quindi il mercato prenderà in quel caso una direzione e in quel caso la direzione la prenderanno anche le al coin nel caso in cui bitcoin andrà a correggere e andrà a fare anche una iorlo mensile nel tempo le al coin che saranno messe posizionate bene subiranno un colpo forte però comunque dopo tutta questa salita ci sta per le al coin invece che sono rimaste nel dimenticatoio come tante al coin che abbiamo visto nei giorni precedenti è quelle al coin potrebbero perdere molto di più di quelle al coin che hanno messo un sacco non è perché un al coin sale tanto deve scendere di più di una che non è mai salita questo assolutamente non ha senso perché ci sono al coin che sono folli knife e continuano a scendere in maniera continua se andiamo a vedere tirium ancora molto debole ma questo lo vediamo dal perse tirium contro bitcoin un disastro per quanto riguarda tirium e quindi finché non andremo a cambiare il trend sul mensile sarà molto difficile vedere una vera al coin season ora andiamo un po vedere qualche al coin che mi avete segnalato partiamo con ftm ftm che al momento sul mensile vedete cambio trend sul time frame mensile e ha avuto un buon pump ovviamente siamo molto lontani dall'altime ai molti al coin sono lontane dal loro altime ai e non è detto che andrà cioè mancano tantissime percentuali oltre il 300 per cento e fate sempre le vostre considerazioni ftm sul time frame settimanale abbiamo aperto un inside bar siamo approdati sulla ema 12 e ora dobbiamo vedere perché comunque tutto sommato se andiamo a tirare il ritracciamento fibonacci dallo swing low allo swing high vediamo che abbiamo corretto lo 0.5 fibonacci quindi non è più una bull flag ma potremmo entrare in un equilibrio per quanto riguarda ftm andiamo a vedere per scontro bitcoin vediamo che comunque rimane un po più debole e quindi ha ancora molto a dimostrare ftm se andiamo a vedere cro e so che molti di voi detengono cro non so perché mi piace così tanto cro però andiamo un po analizzarlo e capire dove si trova vediamo che ci stiamo stringendo cioè cro è proprio quel nome che si sta comprimendo sta seguendo un po il pattern di bitcoin su per giù e poi ovviamente la price action di cro è diversa quella di bitcoin però cioè molti voi mi dicono ma tu dici che cro è salito allora cro per quello che a me concerne è salito molto dal bottom cioè dagli 0.04 ma questo non vuol dire che cro è salito perché cro ha ancora moltissimo 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 da fare e quindi se andiamo a cambiare il pace andiamo a vedere cro usdt ma andiamo a prenderlo per esempio su kucoin andiamo a vedere un po dove ci troviamo dal suo altemai è un disastro quindi sarà anche difficile che andremo in altemai sul mensile ha cambiato il trend però cro è uno di quei nomi che rimane ancora molto molto debole ma questo lo vediamo è tranquillamente dal pairs contro bitcoin fatemi un attimo cercare vi faccio vedere se andiamo a vedere cro contro bitcoin vedete qua siamo in un forte bear market è in down pazzesco per scontro bitcoin e finché non mi cambia il trend mensile non andiamo a rompere 0.000 33 sarà molto difficile voglio ricordarvi per chi fa trading by bit ci ha dato una promo fantastica by bit è uno dei migliori exchange noi lo utilizziamo per fare trading ovviamente non consigli finanziari gli exchange utilizzano per fare trading e non sono proprio delle banche quindi fate sempre le vostre considerazioni avete una mega promo 200 usdt di posizione e quindi sarebbe una posizione di trading e vi ricordo che i profitti possono essere prelevati chiaramente troverete tutto in descrizione i posti sono limitati quindi ovviamente chi prima arriva meglio accomoda e poi nella landing page troverete tutte le specifiche per come partecipare a questa promo se andiamo a vedere run invece un nome che non è per niente male è abbastanza fortino sul mensile sono tanto anche questa cosa vedete e quando abbiamo rotto questa trend line rottura rialzo il cambio 3 mensile quindi ha un pochettino dimostrato run tor chain sul time frame settimanale se andiamo a vedere il tracciamento fibonacci vediamo che è abbastanza forte la correzione ve lo faccio vedere e vedete che ha corretto lo 0.61 quindi anche qui equilibrio settimanale secondo me se andiamo a vederlo sul per scontro bitcoin rimane ancora un pochettino debole cioè si vede che dobbiamo ancora fare dimostrare sul time frame settimanale lo vediamo se andiamo a tirare questa trend line vediamo dove ci troviamo secondo me dobbiamo andare a rompere rialzo il 0.0015 e in quel caso riprendere il trend contro bitcoin a favore di run e chiaramente tutti questi nomi che sono un pochettino magari sottotono e non sono già andati in oltre mai è perché hanno un peso contro bitcoin molto debole ma bitcoin è rimasto e rimane il nome per antonomasia la criptovaluta vera che non ha mai perso non ha mai svalutato da quando è nata fino ad oggi in ogni ciclo ha perso e ha recuperato è andata in oltre mai le alcoin sono una scommessa vedete che comunque vanno sempre differenti narrative ogni anno ogni burran cambia sempre e quindi scommettere nel coin è sempre un azzardo io come sempre ando con si finanziari ho sempre un 15 per cento che vado allocare a costruire nel coin però mi limito a quella percentuale chiaramente poi ognuno deve fare sempre sempre le sue considerazioni prima di proseguire voglio parlarvi di un progetto molto interessante che riguarda il cloud computing parliamo di nukocloud che sarebbe il primo hyperscaler mesh decentralizzato al mondo teniamo a mente che molti progetti legati al cloud computing stanno andando abbastanza bene e quindi bisogna tenerli monitorati per questa burran che sta avvenendo se andiamo un po vedere sul sito loro credono nel potere della comunità e infatti i loro miner non solo sono in grado di monetizzare la loro potenza di calcolo ma aiutano anche cambiare il mondo come funziona nukocloud funziona come collegamento tra chi ha bisogno di potenza di calcolo e chi la fornisce noi possiamo offrire la capacità inutilizzata del nostro vecchio hardware o anche di quello nuovo quando non abbiamo bisogno questo è un po come funziona il cloud computing diciamo che le burran sono caratterizzate da differenti narrative stiamo vedendo adesso che le meme stanno andando molto forte intelligenza artificiale quindi vediamo che ogni burran è differenziata da varie narrative e secondo me è giusto anche presta attenzione per quanto riguarda il cloud computing perché potrebbe dare soddisfazioni in questa burran ovviamente dobbiamo fare sempre le nostre ricerche prima di investire in qualsiasi progetto in quanto non sono assolutamente consigli finanziari come vediamo se andiamo sulla loro roadmap stanno facendo un importante rebranding perché vogliono posizionarsi in maniera aggressiva nel settore del cloud computing e da come vediamo tra i prodotti hanno sia nukocloud pro ma anche go nukocloud go e la loro soluzione di entry level che fornisce potenza di calcolo decentralizzata e facile da usare a una frazione dei costi tradizionali invece il nukocloud pro soddisfa le esigenze informatiche di piccole e grandi aziende con server sicuri e professionali se andiamo a mettere a confronto nukocloud con i suoi competitor come per esempio amazon web service microsoft azure tra i più famosi vediamo che comunque ha molti punti a favore qua andiamo a vedere il rischio di carenze di hardware qua vediamo basso invece tutti gli altri competitor alto se andiamo a vedere le previsioni di mercato a livello mondiale per quanto riguarda il cloud computing vediamo che nel 2020 eravamo a 120 billion 2021 445 billion si stima un aumento in 2026 a 947 billion e in 2027 a 1240 billion quindi vediamo che la prospettiva di salita è molto molto alta per questo settore la cosa interessante da notare che loro hanno il loro token chiamato ncdt e lo possiamo trovare sia su exchange decentralizzati come per esempio uniswap ma anche su exchange centralizzati abbiamo maxc digifinex wide bit e chiaramente nel mondo cripto ci sono progetti simili a nukocloud come per esempio render a cache glm anche icp internet computer che è uno dei più famosi se andiamo a fare una comparazione del market cap per esempio di nukocloud ncdt rispetto per esempio a render vediamo che se nukocloud raggiungerà un market cap come per esempio quello di render abbiamo un 110.28 per quindi vedete oppure per esempio se andiamo a paragonarlo con altri del suo settore come per esempio a cache se andiamo a vedere qua vediamo un 29 per se andiamo per esempio a vedere glm qua vediamo un 15 per oppure se vediamo internet computer cp qua vediamo un 246 per quindi va a mettere in comparazione se n cdt avrà il market cap di cp quante percentuali andrà a mettere possiamo fare anche un salto sul loro twitter dove pubblicano un sacco di aggiornamenti riguardanti il progetto e tra le tante cose possiamo fare anche un salto sul loro gruppo telegram allora ritornando a noi oggi non andremo a vedere notizie andremo ancora a parlare di al coin quindi se volete rimanere sempre sul pezzo andate su mindachart.io in questo modo troverete tutte le news in tempo reale ma potete fare anche un salto sul nostro gruppo telegram missione spazio gratuito dove trattiamo di presale airdrop stiamo facendo l'airdrop del bitcoin wallet e quindi tantissime cose training analisi potete trovare tutti i link in descrizione se andiamo e continuiamo con varial coin andiamo a vedere injective sul time frame settimanale vedete anche qui vedete che ci stiamo comprimendo stiamo ballando tra i 28 e 45 e quindi vediamo che anche per injective ci stiamo stringendo e chiaramente l'andamento di bitcoin quindi capire cosa farà bitcoin in concomitanza con l'alving andrà a dettare l'andamento il trend delle criptovalute da qui ai prossimi mesi perché se il bitcoin mi rompe rialzo potrebbe andare verso gli 80.000 molte narrative continueranno a salire quelle più forti nomi più deboli comunque vanno a recuperare e via dicendo però se da qui cominciamo una correzione forte è ovviamente non sarà per niente semplice stiamo vedendo che comunque injective è un nome abbastanza forte e sta tenendo abbastanza bene se invece andiamo a parlare di tron che è da un po che non trattiamo sul canale stiamo vedendo che comunque tron piano piano ha sempre continuato a salire è un nome abbastanza forte non siamo poi lontanissimi dall'olta e mai mancherà un 50 60 per cento quindi sta recuperando abbastanza bene potrebbe andare in oltre mai tron se il mercato quindi bitcoin permette a tron di salire ovviamente se non ci saranno correzioni e quindi tron rimane un nome abbastanza forte che secondo me potrebbe andare a testare anche gli 0.18 nel breve medio termine in concomitanza chiaramente con un bitcoin che andrà verso gli 80 ma anche 100.000 dollari anche perché chiaramente bitcoin secondo me potrebbe andare verso i 100.000 dollari al termine di questa bull run ha tutte le carte in regola per arrivare ai 100.000 psicologici di più non vi so dire ma non vi so dire neanche se andrà 100.000 però ha le carte in regola e quindi è giusto prestare attenzione vediamo per esempio anche bim che molti di voi mi hanno segnalato stiamo vedendo che continua la sua salita bim chiaramente su questi nomi nuovi abbiamo comunque molta speculazione e poco storico quindi fate sempre le vostre considerazioni se andiamo a vedere comunque abbiamo appena creato sul grafico lei ma 12 e quindi abbiamo ancora pochi supporti anche perché se andiamo a rompere gli 0.028 poi non abbiamo niente fino agli 0.018 quindi anche qui buoni guadagni ma anche potenziali perdite tau anche qui nome abbastanza nuovo quando ci sono nomi abbastanza nuovi è interessante andare a vedere secondo me più che la price action cioè il prezzo del progetto più quello che realmente fa il progetto quando non sia storico chiaramente ci basiamo soprattutto sulle fondamentali su quello che farà il progetto andremo a vedere tutti i documenti il sito web la roadmap il team quello che stanno creando e poi anche le pietre miliardi gli obiettivi che hanno portato a termine quindi quando andiamo a vedere nuovi progetti secondo me è meglio andare a vedere in maniera comunque più approfondita tutto quello che concerne quello che si dietro il progetto in modo poi ad essere maggiormente confidenti ovviamente un progetto nuovo ha comunque sempre i suoi rischi annessi ora abbiamo fatto un bel sunto abbiamo fatto un po di alcoin un po di analisi tecnica abbastanza veloce come sempre continuate a commentare in descrizione così piano piano andremo a smaltire un po tutti le alcoin che ci andate a chiedere io vi ringrazio lasciate sempre dico sempre un bel like se vi piacciono i contenuti attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo cripto appuntamento